Allora, buon pomeriggio, cercherò di essere sintetica, visto l'orario. Dunque, come già stamattina la dottoressa Filippetti diceva che l'istituto è impegnato nelle scuole in realtà da oltre 20 anni, ebbene, così in svariati modi, non solo appunto con il servizio di sostegno ai docenti rispetto alle difficoltà dei ragazzi che seguiamo in istituto, ma anche con l'attività di sportello d'ascolto, un'attività impegnativa in cui hanno creduto moltissimo il dottor Bianchi e la dottoressa Di Renzo, che ringrazio perché anche nonostante le grandi difficoltà legate ai finanziamenti hanno creduto in questo servizio permettendogli una continuità e mandandolo quindi avanti nel tempo anche in assenza di finanziamenti. Abbiamo avuto oltre 400 sportelli, 30 progetti, 50.000 questionari, che voglio dire insomma è un numero veramente elevatissimo, che ci ha consentito di avere una fotografia, uno spaccato della realtà adolescenziale, non solo legata quindi alle terapie, ai ragazzi che hanno delle difficoltà, delle patologie, ma un campione diciamo così, non mi piace usare questa parola normale, tra virgolette perché non è la parola corretta, in questo momento non me ne viene un'altra, ma però ci permette appunto di assolutamente di avere una visione globale. Solo su Roma negli ultimi due anni abbiamo avuto almeno 100 scuole con sportelli di ascolto e attività nelle classi, direi 200. Abbiamo somministrato questionari su diverse tematiche, non li posso raccontare tutti perché non abbiamo il tempo, comunque affettività e sessualità sul femminile, sull'ansia e le fobie, sull'alimentazione, sulle relazioni dei gruppi con i pari, con i docenti, con i genitori, sul bullismo, tematica attualissima, sulla legalità, sul futuro, sull'alcol, il futuro è anche un altro concetto a cui io tengo in maniera particolare, poi ci torneremo, sull'alcol, l'uso dell'alcol, dei videogiochi, comportamenti a rischio, vedete anche giochi d'azzardo, tematica attualissima. E da ultimo, nel senso che è stato somministrato più recentemente e su cui mi vorrei soffermare proprio brevemente un attimo, il questionario sul quoziente emotivo. Perché? Perché in realtà questo questionario ci ha proprio confermato quello che noi abbiamo vissuto con tutta la mia equipe rispetto a ciò che ci arriva agli sportelli d'ascolto. Intanto cerchiamo di capire che cos'è il quoziente emotivo. È il rapporto fra la sfera emotiva dell'individuo e l'ambiente circostante, detto in maniera molto semplice. E si avvale di cinque sottodimensioni di cui si possono avere appunto punteggi anche qui importanti che ci danno importanti informazioni. Abbiamo la dimensione intrapersonale, quindi quella legata più alla capacità proprio di comprendere e riconoscere le proprie emozioni. La capacità interpersonale, legata quindi alla capacità di comprendere gli altri, le emozioni degli altri, i sentimenti degli altri, l'essere altro. L'adattabilità, quindi la capacità di adattarsi anche alle varie situazioni. La gestione dello stress e quindi la capacità di tollerare lo stress, elemento importantissimo, come abbiamo visto una difficoltà che riguarda, è un elemento che riguarda tantissimi giovani e in tutte le aree anche che ci giungono, diciamo così, a terapia. Abbiamo visto i bambini con difficoltà di linguaggio, bambini plus dotati, bambini veramente in ogni tipologia di difficoltà spesso riscontriamo quest'area di scarsissima capacità di gestire lo stress. I ragazzi, poi ci ritornerò dopo, a volte basta un brutto voto perché vadano in pezzi o situazioni veramente poco più richiestive riescono a mandare in tilt i ragazzi. E l'ultima, l'umore generale, che è la capacità di vedere il lato positivo delle cose, quindi di porsi rispetto a quello che è il mondo esterno. Quello che molto sinteticamente è venuto fuori è che, intanto l'abbiamo somministrato a circa 2.700 ragazzi romani, quindi questa è una realtà prettamente romana. E quello che è venuto fuori è che c'è una tendenza ad avere dei punteggi medio-bassi, soprattutto appunto nell'area della gestione dello stress e in particolare in una determinata fascia d'età, fra i 13 e i 15 anni. Però ci tengo a dire che noi qui abbiamo, diciamo così, abbiamo somministrato il questionario a ragazzi fra 10 e 18 anni. In realtà, secondo me, è una cosa che noi riscontriamo molto anche nei bambini, ma in questa fascia d'età in particolar modo il periodo più critico è quello fra i 13 e i 15 anni. Età, insomma, che è piena adolescenza e che è già piena di contraddizioni. E lo stesso vale per l'umore generale. Questo cosa vuol dire? Che i ragazzi in qualche modo riconoscono, comprendono le proprie emozioni, comprendono e riconoscono anche quelle degli altri, anche se a volte abbiamo dei dubbi su questo, ma faticano poi a reggerle. Quindi si difendono scappando. Loro spesso dicono scherzo, anche questo uso eccessivo è a volte un po' avventato di Facebook, Whatsapp, che sta creando nelle scuole grossissimo panico perché i ragazzi lo usano in modo improprio. è una sorta di... crea diverse difficoltà perché i ragazzi si dicono le cose ma non si soffermano su quello che dicono. Quindi viene tutto lanciato lì in maniera molto veloce, molto meccanica, conseguenziale, e non si soffermano perché se pensano quello che un'affermazione può creare in un'altra persona potrebbe in qualche modo creargli uno stato d'ansia grosso a loro. Ok? È un po' complesso come da spiegare. Non riescono a gestire da soli le situazioni, hanno bisogno di essere guidati, spesso però non riescono ad avere un adulto di riferimento. Da qui l'importanza dello sportello d'ascolto, perché cosa accade? Che loro in qualche modo non si sentono ascoltati, ma non necessariamente perché dietro non ci sia una famiglia. Spesso ci sono anche le famiglie, ma ci sono situazioni a volte difficili da comunicare ai genitori. E quindi il ragazzo si sente molto solo. Faccio un esempio proprio banale, quello più facile, più fruibile per tutti. Una separazione. Probabilmente un figlio difficilmente riesce, seppur ha internamente un grande dolore, una grande sofferenza, difficilmente però riesce a parlare con i propri genitori di questa situazione, perché magari non vuole ferire nell'uno o nell'altro. E quindi si chiude nella sua solitudine. Trovare un punto di riferimento, un luogo dove ci sia qualcuno in posizione di ascolto autentico, che non si schiera, ma che possa appunto accogliere quello che è il loro malessere, per loro è importantissimo. Vi spiego un attimino come funziona la nostra attività. Noi generalmente nelle scuole presentiamo lo sportello d'ascolto per i ragazzi, che è in genere in orario mattutino, dalle 9 all'1 a scuola. C'è poi uno sportello d'ascolto per i genitori, in cui la collega che segue i genitori non è la stessa che segue i ragazzi, proprio per tutelare i ragazzi stessi. È chiaro che se c'è poi qualcosa che è di fondamentale importanza da comunicare ai genitori, perché comunque sono dei minori, questo viene lavorato con il ragazzo, non lo si bypassa mai. Per cui si parla con il ragazzo, si aiuta il ragazzo a far sì che eventualmente sia lui stesso a parlare, a chiedere, a parlare con i propri genitori. Se non ce la fa, si dà la disponibilità di farlo insieme, ma lo si accompagna in questo cammino. Là dove proprio questo non è possibile, a volte ci si rivolge agli insegnanti, che sono spesso un validissimo aiuto nel nostro lavoro e che spesso, avendo il contatto anche giornaliero con i ragazzi, riescono in qualche modo anche a fare da passaggio. Tante volte sono loro stessi che accompagnano, che aiutano e sostengono i ragazzi nel rivolgersi allo sportello. Parlo soprattutto dei licei, perché alle medie i ragazzi vengono veramente in estrema tranquillità e è difficile a volte arginarli. E ci tengo anche a dire che non vengono mai per perdere l'ora. A volte ci veniva detto, eh ma i ragazzi così escono, vengono per perdere l'ora. A noi non è mai capitato. È successo che qualcuno sia venuto per curiosità, ma dopo i primi 5-10 minuti in cui, insomma, si è mostrato curioso, eccetera, ha comunque poi aperto un canale importante di confronto. E questo ci tengo proprio a dirlo, perché c'è una serietà e una capacità di questi ragazzi comunque di cogliere degli aspetti fondamentali. Vi dico solo che noi diamo un numero di telefono. Nei nostri volantini che vengono distribuiti a scuola c'è un numero di telefono. Voi potete immaginare, ed era anche la nostra paura inizialmente, quello che può succedere dando un numero di telefono a dei ragazzi. Si potevano scatenare con telefonate di gioco, scherzi. Non è mai accaduto. Sono più di 12 anni che io personalmente mi occupo di questo. Non abbiamo mai avuto una telefonata o un messaggio di presa in giro, di scherzo. E credo che sia un elemento molto importante. Abbiamo poi lo sportello d'ascolto dei genitori. Viene ovviamente fatto in orario pomeridiano per agevolare l'accesso dei genitori. C'è anche per loro un numero di telefono dove si prenotano direttamente con noi senza passare attraverso la scuola. C'è poi uno sportello d'ascolto per i docenti, perché comunque il lavoro dei docenti è estremamente pesante, soprattutto in questa realtà con ragazzi veramente in questo momento in questa fase problematici, con ragazzi demotivati e quindi sono spesso anche loro bisognosi di aiuto. Faccio una piccola precisazione rispetto allo sportello che viene fatto nelle scuole elementari, perché lì parliamo soprattutto di sportello per genitori e per docenti, mentre nelle classi alle elementari vengono fatti, su richiesta, degli interventi, ma nella classe, sulla dinamica di gruppo. Ed eventualmente si dà poi una mano al docente che può trovarsi in difficoltà con un gruppo classe molto complesso. Sappiamo che ormai nelle classi sono presenti non due bambini con difficoltà, BES, DSA, ma ce ne sono almeno 6-7 per classe. Si fanno i focus group anche nelle scuole medie e superiori, laddove i ragazzi lo richiedono o anche i docenti. Facciamo dei laboratori pomeridiani che hanno anch'essi proprio lo scopo di prevenzione di teatro, arte e immagine, musica, video giornalismo, scrittura creativa. In particolare quest'anno stiamo facendo una sperimentazione in una scuola in cui diversi di questi laboratori confluiranno poi tutti insieme. cioè il laboratorio di arte e immagine creerà le scenografie per il laboratorio di teatro, il laboratorio di musica creerà le musiche per lo spettacolo sempre di teatro e quelli del video giornalismo prepareranno le interviste. Insomma si cerca di creare una rete affinché tutti poi confluiscano personalità così differenti possano confluire in un unico bel lavoro integrato. Scrittura creativa perché potranno costruire anche ovviamente il testo dello spettacolo. E da ultimo ma non per ultimo c'è lo sportello anche online che è un ulteriore servizio che noi offriamo ai ragazzi e che permette di dare loro una continuità anche nei momenti in cui noi non siamo magari presenti a scuola nei periodi ad esempio estivi da giugno a settembre, anche ottobre prima che riniziano le attività di sportello perché ovviamente quelle scolastiche iniziano ben prima. Abbiamo i giornalini che proponiamo ai ragazzi dalla scuola, i primaria news che sono giornalini a livello nazionale arrivano contributi da tutta Italia appunto chiedilo agli esperti lo dicevo, è o sportello studenti dove i ragazzi possono scrivere le loro domande i loro dubbi, le loro perplessità e la novità diciamo di quest'anno è anche l'app della dire, dire giovani che si possono scaricare ragazzi gratuitamente sul telefonino e su cui gli arrivano delle notizie simpatiche, carine quindi comunque li stimano a leggere a interessarsi e a rimanere anche in contatto con il mondo insomma. Allora, gli sportelli in genere sono operativi appunto dal mese di ottobre fino al mese di maggio e il 50% degli studenti usufruisce di questa opportunità che mi sembra un dato molto importante devo dire che c'è una netta preponderanza di femmine che vengono allo sportello ma è in controtendenza nel senso che stiamo vedendo negli anni un netto aumento anche dei ragazzi che appunto si propongono allo sportello e questo ci fa piacere abbiamo chiesto ai ragazzi una delle varie domande che è stata fatta ai ragazzi se vorrebbero uno sportello nella loro scuola ben il 70%, il 69% dei ragazzi risponde di sì solo un 10% dice di no poi c'è una fascia che è insomma un po' titubante ma direi che è un buon dato allora le tematiche che vengono affrontate sono diverse abbiamo quelle che riguardano il contesto scolastico quelle del contesto familiare e un terzo contesto che è quello individuale in realtà poi queste tematiche si vanno anche molto a integrare nel senso che molto spesso ci capita che le tematiche che ci arrivano come tematiche sprettamente scolastiche in realtà poi come la difficoltà negli apprendimenti la scarsa motivazione, l'ansia da prestazione eccetera poi convergono sulle tematiche più individuali legate proprio all'autostima l'insicurezza nelle relazioni cioè tante volte non è che hanno una difficoltà a studiare noi gli diciamo studia di più o gli diamo uno strumento e il problema si risolve perché c'è sotto qualcosa di più importante e di più pesante anzi è proprio il nostro modello diciamo così non ci porta a dare soluzioni ai ragazzi a un po' robotizzare passatemi l'espressione i comportamenti ma al contrario ci porta ad aprire a creare dei ponti con i ragazzi affinché siano loro stessi poi a trovare le soluzioni e la via migliore le tematiche del contesto individuale ovviamente riguardano l'autostima, l'insicurezza nelle relazioni l'immagine corporea, disturbi alimentari non ve le sto ad elencare tutte perché la dottoressa di Renzo mi guarda il contesto familiare come già abbiamo sottolineato più volte la separazione dei genitori è uno dei temi che è veramente insomma preponderante i ragazzi nonostante magari l'abbiano già in qualche modo vissuta da bambini comunque la vivono sempre in maniera forte anche quando i genitori sono tranquilli diciamo così apparentemente tranquilli, sereni e loro riescono a trovare un equilibrio comunque entrano poi dei livelli di complessità i problemi economici è un altro fatto che ultimamente ci viene portato e raccontato spesso allo sportello disagio familiare e difficoltà a comunicare all'interno della famiglia l'integrazione interculturale perché adesso il livello di stranieri è alto ma anche non di stranieri ormai perché molti sono ragazzi nati in Italia però magari sono di origine filippina marocchina, albanese, romena e quindi capita che anche a seconda delle zone devo dire abbiano più o meno difficoltà con i gruppi e devo dire che delle volte in questo gli insegnanti hanno fatto dei lavori splendidi sul gruppo a volte hanno chiesto il nostro aiuto proprio nel lavorare sulla dinamica ma delle volte noi abbiamo solo supportato un grande lavoro fatto dai docenti che in questo soprattutto alle elementari possono mettere delle buone basi e poi molto anche i lutti e le malattie a volte anche il lutto di un nonno di un fratello, di una sorella veramente destabilizzano questi ragazzi ci tengo anche a dire che quando noi troviamo problematiche un po' più elevate che necessitano di un percorso psicoterapeutico non vengono ovviamente inviati in istituto i ragazzi ma vengono inviati sul territorio chi si rivolge allo sportello generalmente sono ragazzi apparentemente ripeto, apparentemente passivi e annoiati preoccupati per il loro rendimento scolastico hanno una bassa autostima soli e protagonisti spesso anche di una storia familiare un po' dolorosa gli obiettivi dello sportello sono quelli di incontrare l'adolescente nel suo disagio ma anche nelle paure nelle sue paure di offrirgli nuove possibilità di incontro con il mondo adulto quindi di aprire, non di chiudere favorire una mediazione che però non vada a destrutturare il ragazzo stesso, la persona perché noi non siamo in un contesto psicoterapeutico è pur sempre uno sportello d'ascolto cerchiamo di riorientarli e di aiutarli un po' a poter tollerare la frustrazione appunto non necessariamente dovendo raddrizzare la piantina storta per usare un'immagine di Massimo Recalcati ma al contrario di magari poter anche accettare amare la piantina anche se un po' storta insomma con i suoi difetti per me è molto importante parlare di come noi intendiamo visto che mi hanno dato l'ultimatum mi è arrivato il biglietto che ho solo 5 minuti nemmeno so 3 allora rispetto a quello che noi intendiamo per ascolto nel senso che noi non utilizziamo delle tecniche per modificare i comportamenti cerchiamo di contenere le sue emozioni di rispecchiarle di aprire proprio la sua mente ad altre visioni non c'è la loro solo unica visione ma magari ci sono altre opportunità questo è il lavoro che si cerca di fare di aprire i loro punti di vista lo si stimola a delle nuove riflessioni e per poter trovare lui stesso le soluzioni ai problemi l'ascolto non riguarda solo la narrazione ma anche appunto il non verbale i non detti noi cerchiamo di andare ovviamente oltre anche su altri livelli è necessario essere tolleranti aperti non troppo critici loro vengono da noi perché sanno che è uno spazio in cui non c'è giudizio di nessun tipo non siamo docenti non siamo genitori e questo ovviamente gli semplifica molto volo bypasso il concetto di futuro che invece per me era molto importante perché ci tenevo perché ci tenevo a dirvi che l'ascolto è un incipit è fondamentale e è da lì che inizia la vita psichica questo per me deve essere proprio un concetto un concetto base anche ieri parlavamo di sviluppo del linguaggio di difficoltà nello sviluppo del linguaggio laddove non c'è un ascolto dei bisogni primari di una mamma o di un caregiver non ci sarà neanche la possibilità per il bambino di apprendere il linguaggio e comunque di concentrarsi su altro e quindi non ci sarà capacità di ascolto il bambino non potrà raggiungere uno sviluppo armonico ma questo ascolto non è solo all'inizio è sempre in ogni fase della vita del bambino del neonato del bambino dell'adolescente dell'adulto poi deve essere sempre sempre presente io vi dico che dopo un'esperienza di ascolto vero puro è difficile è difficile rimanere come come si era prima c'è sempre un mutamento anche se a volte impercettibile agli occhi degli altri noi sappiamo che c'è a volte a scuola ancora i genitori ci dicono abbiamo fatto l'intervento in classe non è cambiato niente noi a volte diciamo diamo del tempo vediamo perché invece si è comunque messo un piccolo seme e qualcosa vi assicuro che accade sempre basta concludo ho tolto tutto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.